Molto male, molto male. Sono qui per miracolo perché a quest'ora già devo sparire. Quindi anche lei cerca di stare a casa il più possibile nelle ore centrali? Sicuramente non potevo fare a meno e sono dovuto uscire. Il caldo e l'umidità hanno causato malesseri e disagi. Aumentati del 30% gli accessi al Santa Croce di Fano, passando dagli 80% del periodo invernale ai 120% del periodo estivo. Ma come ci conferma, referente dell'unità operativa del pronto soccorso e medicina d'urgenza, a Giancarlo Titolo, le principali patologie restano quelle da trauma. Gli altri tipi di patologie sono quelle da caldo, sincopi, che come diceva il dottor Austo sono il 70% degli accessi nei pronto soccorsi. Sono aumentate durante la stagione del caldo, sicuramente, bambini, anziani soprattutto. Non seguono i consigli dei media. Ecco, ricordiamo questi consigli. Quelli della nonna, non è che siano dei consigli particolari. Bisogna stare freschi, non uscire nelle ore di punta, sostanzialmente, e bere molto, moltissimo. Io che sono un motociclista, ho bevuto in un viaggio circa 4 litri di acqua, voglio dire. Quindi, in un viaggio, quindi non nelle 24 ore. Delle persone, insomma, anziane, che sono molto più delicate, insomma, o dei bambini, devono altrettanto, insomma, essere molto idratati. Insomma, quindi, non ci sono dei consigli particolari, li sappiamo. Il caldo d'estate non è un'emergenza. Ce lo aspettiamo, insomma, fondamentalmente. L'estate fa caldo, insomma, l'inverno piove. Credo che comunque sia la normalità. La direzione sta mettendo in campo tutte le risorse per rispondere al meglio a questo anticiclone di matrice africana. Stanno anche prendendo misure eccezionali e attivando nuovi posti letto. Bisogna comunque fare attenzione e non sottovalutare questa ondata di caldo sopra la media, con temperature che hanno raggiunto anche i 34 gradi e con un'alta percentuale di umidità. Quali consigli gli ha dato il suo medico? No, il medico di stare poco al sole, non più di questo. Qua è un po' più fresco dove ci sono le pescherie o fa caldo comunque? È un po' più fresco qui. Un po' più fresco, ecco. E lei invece come riesce a franteggiare un po' questo caldo? Ma abbastanza bene, però è caldo, insomma, ovvio. Però dai, non lamentiamoci, ieri sono stata a Milano, è un incubo. Sì. Un incubo. Meglio a Fano. Qui tutto sommato, dai. Era tremendo ieri, quindi oggi pare che si sta meglio qui, all'ombra. Sembrano però essere in arrivo due giorni di sollievo, giovedì e venerdì, ma le temperature poi torneranno a salire già da sabato. Secondo gli esperti farà molto caldo fino a metà luglio. Ventilatori e condizionatori sempre richiesti? Sì, specialmente adesso con questo caldo. Quante sono le richieste? Immagino siano aumentate in questi ultimi giorni. Sono aumentate nell'ultima settimana praticamente. Delle novità? Novità? Abbiamo questo qui, per esempio, che ha un ventilatore con acqua, quindi ha la possibilità anche di rinfrescare l'ambiente, insomma, spruzzando dell'acqua. E più o meno quanto siamo sul prezzo? Sui 100-150 euro, secondo i modelli. Anche questa è un'altra novità? Sì, infatti, questo qui è un ventilatore creato da un ingegnere inglese che si chiama Dyson, per cui ha l'effetto di una turbina dell'aereo, per cui l'aria che convoglia sotto gira vorticosamente su questo cerchio e la butta fuori. E poi ci sono anche i classici ventilatori? Sì, i classici ventilatori a piantana oppure da tavolo, che sono quelli che si sono stati da decine di anni fino adesso. Corre caldo, tempo caldo, tutto ok. Arriva a ferra, tutto ok. Quindi si sta meglio col caldo? Sì.